Quante partner hai avuto? Più di 200. Se vi siate presi troppi rischi a letto... Il profilattico? Mai. Cercate una risposta a una domanda delicata? L'anno di un uomo si può allargare come una vagina. O volete un check-up delle parti intime? Ora faccio un tampone anale. Questa è la clinica che fa per voi. Oh mamma, guardate chi sta entrando. Questo è il team di esperti. Kevin... Come ti possiamo aiutare? Sara... Ora un altro tampone. ...e Naomi... Hai sempre avuto un solo testicolo? Risolveranno tutti i dubbi sulla salute sessuale. Il mio prepuzio tende a restare chiuso. Tutto ciò che vi eccita... Amo le sculacciate. E il fisting? Una mi ha chiesto di urinarle addosso. Ok. Può nascondere una verità dolorosa. Cavolo! E certe conquiste possono avere delle conseguenze. Questa sembra una verruca genitale. Oh! I pazienti di oggi. Per me la contraccezione è un crimine. Potrei essere carico di malattie venere. Vorrei che mi aiutassero a liberarmi dal mio terrore per il sesso anale. Guardo giù ed è tutto rosso. Nero, 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 rosso. E penso, cavolo! Nero, però non toordsi di sicurezza. Salute di entrata per aiutassero. igh. Può! Per me iutassero. Allora, là, lo so. Ho! ando.